Con gli annunci di Luigi Pavarese e Ciro Ginestra la macchina organizzativa del Barletta in vista del prossimo campionato di Serie D può finalmente mettersi in muto. L'obiettivo in Casa Biancorossa è quello di costruire un organico ambizioso. Il nuovo responsabile dell'area tecnica Pavarese intanto sta lavorando in sinergia con il presidente Di Miccoli sia al mercato in entrata che alle riconferme di alcuni protagonisti della scorsa stagione. Diversi i sondaggi da Amet Fall, nome che non scalda più di tanto la dirigenza biancorossa, a Domenico Santoro, reduce dall'esperienza di Brindisi, fino a Paolo Burzio e Nicola Strambelli del Casarano. Qualche timido contatto anche con Loris Palazzo, Novereti in 23 presenze con la maglia del Bitonto nell'ultima stagione prima della frattura al Malleolo. Nessuna firma all'orizzonte in ogni caso per l'attaccante con l'ex Monza nel mirino di diverse squadre di Serie C. In stand-by i nomi di Franco Sosa, chiesto da Ginestra e Fabio Longo, uomo vicino a Pavarese. Non solo nuovi volti perché il Barletta sta pensando anche ad alcune riconferme. Il rebus loiodice continua a tenere banco all'ombra di Eraclio. Positivi i primi contatti tra Pavarese e Abruzzese, procuratore del calciatore. Ma l'ultima parola spetta sempre a Mario Di Miccoli. Per la firma, dunque, bisognerà attendere con il fantasista barese che resta nel mirino dell'Altamura. Discorso diverso invece per Petta che potrebbe riavvicinarsi a casa. Sul tavolo c'è già la proposta del Trapani, ma il difensore ha comunque lasciato la porta aperta per il Barletta. Fa ripuntati anche sul parco under da ricostruire da zero. L'arrivo del terzino classe 2005 Giuseppe Venanzio nell'ultima stagione all'Altamura è più di una semplice ipotesi. Grazie a tutti.